Tanta paura per un nubifraggio che si è abbattuto a Taranto, una vera e propria bomba d'acqua sul capologo ionico e in particolare danni e disagi al rione Paolo VI dove si sono verificati allagamenti che hanno bloccato il traffico. Impraticabile, Viale Cannata, la principale arteria del popoloso quartiere, gravi disagi anche in Viale della Liberazione, allagate le zone vicine e parte dell'area parcheggio di un centro commerciale. L'acqua ha invaso abitazioni, scantinati, negozi e uffici, tantissime le segnalazioni giunte ai centralini di emergenza sul posto dei vigili del fuoco che hanno operato con le pompe a idrovore, la polizia di Stato, i carabinieri e la polizia locale. Tante le auto rimaste in panne, gli automobilisti sono stati soccorsi dalle forze dell'ordine, i carabinieri hanno dato aiuto ad un'anziana di 81 anni che si trovava in una delle vetture ferme nell'acqua. Duro lavoro anche per i vigili del fuoco, uno di loro ha tratto in salvo una persona diversamente abile, rimasta bloccata all'interno di un'automobile. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per le persone, è quanto si legge in una nota dell'amministrazione comunale che con il coordinamento degli assessori alla polizia locale, Ciraci e lavori pubblici giorno, è intervenuta tempestivamente attivando il centro operativo comunale. La polizia locale si è recata sul posto per gestire i disagi causati dagli allagamenti, ha chiuso il traffico Viale Cannata in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra il centro commerciale e Via Grandi. Si è inoltre verificato un enorme smottamento dell'asfalto all'incrocio tra Viale del Lavoro e Viale del Turismo. Un intervento specifico ha poi riguardato la scuola Pirandello che è stata evacuata dal poco personale presente.